però c'era anche da noi ma lei si è alzato subito e si è alzato subito perché non per l'altra io voglio dire che sia la roba che ti metto neanche a fare il culo eh dai Alex che mai che ti rappiano tutto quanto questa è che è incassata anche una zera con le brentelle mamma mia dai Giulio dai forza dai dai ragazzi che non è finita dai Amir no vatelo prendere questo è giusto cazzo ne so dimmi sotto sotto stalla fondo che sei dentro se li godi li vedi grazie grazie grazie